Ciao ragazzi, benvenuti in queste nuove, io sono Samu Wu, siamo su Yookawatch 2 Psychospettri, non posso fare la story mode, mi dispiace, e fare una cosa particolarmente, super particolarmente particolare, sconfiggo Dekadama con gli spettrali, yeee, vediamo se funziona. Come vedete c'ho di curatore granio mino, iniziamo. Ecco la battaglia, eccola qua, oh, perché è sfocato? Già a rubare i pelli, ma tipo, ma chi sta combattendo i suoi figli? Taccate lui, taccate lui. No, ora li ruba tutti. C'è la due. Lui. Io, in modo, la uccidiamo subito. Li facciamo incantare da quelli, poi li lasciamo così. Oh, sai che vi dico? Chi se ne frega? Taccate Dekadama. Ok, qui c'è. Mi sono assicurato che non ci siano i curatori che la curano. Però un pestifono, però un pestifono non la curano. Non ci siano i curatori che la curano. Ragazzi, ci facciamo, ci facciamo. Scusate. Ho preso il bonus. Staccate. No, lei c'ha... No, lei c'ha... Bene, confondo. C'è, c'è, tra un po' e... Scuzate. C'è, 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 c'è. No, si è purificata. D'accordo, ma cosa? Oh, la vita scala, la vita, la vita, la vita. Voglio vederla morire. No, si è purificato Tocca usare sta squadra Oh, Kativic Ma no, giusto Kativic Fa soltanto la difesa Kativic fa solo la difesa per molti tempi Perché a me È d'accordo, eh Oddio, l'hanno mancato L'hanno mancato tutti L'hanno mancato tutti Madonna, ma che? L'hanno mancato tutti Oh, vi lascio quando la sconfiggio L'hanno mancato tutti Ma come? Pure l'hanno preso Però non si sono incantati Madonna, l'hanno mancato tutti Dai, dai La missione sconfiggio De Kadama con gli spettrali Senza morire Senza Senza nessun morto Eccolo che ho detto io Vi lascio Ora non tocco niente Prova a sopravvivere Tanto ce la fanno, eh Ok, colpo finale Energymax al massimo L'hanno mancato L'hanno mancato Energymax finale Colpo malpo E boom Eh, però un morto L'ho fatto, eh Però soltanto uno Ragazzi Ce l'ho fatto Sconfitto De Kadama con gli spettrali Lasciate un like Se credevate Che ce l'avevo Che ce la farei Dopotutto ce la facevo Perché sono tutti Di livello 80 Lasciate un like Iscrivetevi al canale E ciao Ehhh